Pari e consensi per la Versa, che nella prima amichevole ufficiale impone l'1-1 al Grosseto. La compagine di Ferrazzoli è apparsa già in buona forma, con i vari grieco, arini, palumbo e petagini in evidenza. Al di là del risultato, come evidenziato dai due allenatori, contava farsi un'idea della preparazione, di quanto ancora possono dare i granata a due settimane dall'esordio in Coppa Italia. Il bilancio è positivo, anche se i margini di miglioramento sono parecchi. Ci dovrà fare meglio in ogni reparto, anche se la difesa è quella che maggiormente dà affidamento. Davanti a un centinaio di spettatori, le due formazioni si sono date battaglia. Non è stato un match particolarmente combattuto, perché i carichi di lavoro si sono fatti sentire e a decidere sono stati alcuni episodi. Normanni, pericolosi al sesto, con Grieco, che prova a sfruttare un contropiede avviato da Rini e il tiro del fantasista, è però troppo angolato, perdendosi sul fondo. Replica toscana con Penga, che in cinque minuti ci prova per ben tre volte. Prima il suo sinistro viene neutralizzato in corner da Pettinari. Sui sviluppi il numero sette sbaglia da due passi e si ripete, mandando le stelle da ottima posizione. Il vantaggio però è nell'aria e giunge al minuto 25, quando Rafa Bondi salta de gol, mette al centro e per guidone tutto solo è fin troppo facile appoggiare il rete. La Versa prova a reagire, i grifoni non affondano e allora ecco la prudezza di giornata. La firma, Gaetano Grieco, che fa secco Narciso, con un destro imprendibile. Dopo la pausa, ampio turnovere. In campo i volti noti, Zolfo, Campanella, Pistillo, Prisco, dall'altra parte Caridi, Nanni, Alfageme, Statella. Con quest'ultimo che prova la fortuna al quarto minuto, ma il giovane estremo difensore polise non si lascia sorprendere. È la volta di Curcio, quando il cronometro ha appena superato il quindicesimo, ma il risultato non si sblocca. I campani avrebbero l'opportunità di colpire in contropiede, anche perché l'avversario lascia il possesso e vada a controllare. Gli applausi al tribuci fisico confermano quanto di interessante visto sul terreno di gioco. Aversani giovedì in campo contro il Giulianova e sabato in Lecce. Primavera sarà lo sparring partner prima del debutto in Coppa Italia. Ferragosto.